buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lezione sugli aspetti generali del romanticismo letterario cerchiamo di capire subito il contesto storico ci troviamo nel diciannovesimo secolo nell'ottocento un secolo che è segnato da grandi mutamenti in campo politico economico e socioculturale dopo la rivoluzione americana e la rivoluzione francese le rivoluzioni del settecento e il temporaneo crollo delle monarchie assolute in tutta l'europa si affermano il principio della sovranità popolare e gli ideali di libertà e uguaglianza in campo economico si fa strada il processo di industrializzazione mentre in campo socio politico la borghesia si impone sull'aristocrazia nella gestione del potere e si scontra con la classe operaia la quale rivendica sempre di più maggiore diritti e migliori condizioni di lavoro tutti questi grandi mutamenti hanno condotto ad un senso di insicurezza e di impotenza che nell'arte si traduce in inquietudine rifiuto e ribellione il rifiuto della ragione consiste nel rifiuto di tutti quelli che erano stati i valori dell'illuminismo per cui si tende ad una ricerca dell'irrazionale e si dà ampio spazio ai sentimenti alla passionalità anche all'insofferenza verso ogni limite che si traduce per gli artisti per i letterati in un vero e proprio senso di frustrazione si afferma il ritorno alla religiosità nelle forme della spiritualità nella ricerca in campo occulto in campo esoterico c'è il fascino del mistero esplicitato in tutte quelle scene che rimandano ad allucinazioni al delirio alla follia e il cosiddetto esotismo cioè il rifugio nel passato in un tempo lontano in un tempo mitico e in luoghi immaginari questa ricerca di autenticità e di purezza conduce al mito dell'infanzia e del folklore il folklore è il sapere popolare il sapere del popolo l'infanzia e il popolo vengono percepiti come i veri depositari di spontaneità e fantasia in contrapposizione a tutti quei valori che venivano giudicati falsi valori che erano tipici della società borghese l'interesse si concentra verso la raccolta di quel patrimonio di racconti di tradizione orale che chiamiamo fiabbe il corpus di fiabbe più importante quello che più conosciamo è quello dei fratelli grim sicuramente conoscerete le fiabbe biancaneve cappuccetto rosso ansel e gretel c'è una vera e propria identificazione del popolo con la nazione da cui deriva il fatto che la conoscenza del sapere del popolo quindi del folklore equivaleva ad una vera e propria ad una reale coscienza dell'identità nazionale per quanto riguarda l'editoria possiamo dire che adesso l'editoria una vera e propria impresa capitalistica e tutte le opere d'arte tutte le forme d'arte sono soggette alle leggi del mercato riviste periodici quotidiani giornale si diffondono sempre più su larga scala e condizionano l'opinione pubblica sulle scelte politiche e di mercato gli intellettuali adesso rispetto al passato provengono spesso dalla borghesia quella stessa classe contro cui si scagliavano e ricoprono ruoli di scarso prestigio spesso gli artisti in generale vengono considerate come dei soggetti improduttivi come dei ribelli come degli anticonformisti nella prima de metà dell'ottocento l'italiano è ancora una lingua puramente letteraria infatti nel parlato nelle diverse regioni italiane si usavano i dialetti è solamente dopo l'unità d'italia che si pone l'esigenza di una lingua comune e la questione della lingua ritorna questa volta però rispetto al passato la questione della lingua riguarda non solo la lingua letteraria ma anche quella da usare nei diversi contesti sociali alessandro manzoni individua nella lingua fiorentina contemporanea una lingua viva e in continuità con la tradizione letteraria italiana pensate a dante boccaccio petrarca e quindi il fiorentino contemporaneo era in continuità con la lingua usata da questi pilastri della letteratura italiana per questo motivo manzoni sceglie il fiorentino contemporaneo per la stesura definitiva dei suoi promessi sposi quelle stesure che vanno agli anni 40 42 dell'ottocento per quanto riguarda le forme e generi letterari diciamo che nella poesia si affermano quegli aspetti misteriosi della realtà trattati dalla poesia europea mentre in italia ci si concentra di più su argomenti civili e argomenti patriottici nel campo della prosa la forma letteraria che si afferma di più è il romanzo il romanzo storico e il romanzo realistico per il romanzo storico gli autori principali sono walter scott e il nostro alessandro manzoni per il romanzo realistico i francesi stendhal e balzac per quanto riguarda il teatro sicuramente si affermano di più la tragedia e il dramma storico gli autori più importanti sono schiller per esempio ma anche il nostro alessandro manzoni ragazzi questi sono solamente gli aspetti più importanti essenziali del romanticismo gli aspetti generali faremo gli approfondimenti in classe prendete appunti cercate di segnare quelli che sono i vostri dubbi e poi lavoreremo insieme grazie e buon lavoro